A Casini, della Sicilia e dei siciliani, non interessa nulla. Da un giudizio pessimo del mio governo perché non gli porta consensi, mentre ha sostenuto le due giunte che hanno preceduto la mia perché assicuravano all'Udc un bel bottino elettorale. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, ha replicato così al leader nazionale dell'Udc, Pierferdiando Casini, che stamattina aveva dato un giudizio fortemente negativo del governo regionale in carica. Lombardo ha rilasciato queste dichiarazioni dal Teatro Zappalà di Palermo, dove ha partecipato a un incontro elettorale a sostegno di Alessandro Ricò, candidato a sindaco sostenuto da MPA, FLI ed MPS. Se c'è una ragione in più per votare questo giovane, che ha 37 anni, ma che ha, a differenza di altri giovani, una lunga esperienza amministrativa e politica alle spalle, se c'è una ragione in più, questa ragione sta nello stile, nella classe, nella moderazione, nel senso della misura, che ha caratterizzato le parole e le azioni di Alessandro Ricò. Anche Alessandro Ricò non risparmia critiche all'Udc. E oggi proprio Casini sosteneva da Palermo che comunque l'alleanza col PDL è un'alleanza anomala. E mi dispiace che l'abbia dichiarato proprio oggi, agli ultimi tre giorni di campagna elettorale. Anche per lo stesso Casini forse è stato uno sbaglio quell'alleanza col PDL. Forse incominciano a capire che la vittoria che si aspettavano un mese fa non arriverà. Perché non arriverà quella vittoria?